Un corpo senza vita avvolto in due sacchi neri, uno sulla testa, uno sulle gambe, che lasciavano spuntare solo un pezzetto del giubbotto grigio scuro che la donna indossava. Abbandonato in un'area semi nascosta, ma non lontana dalla strada principale del parco San Giovanni di Trieste, immenso e famoso perché ospita l'edificio da dove Franco Basaglia ha condotto la sua battaglia per l'apertura degli ospedali psichiatrici. Un ritrovamento che lascia pochi dubbi, visto che avviene nel quartiere dove da 22 giorni è scomparsa Liliana Resinovic, la donna di 63 anni di cui si era persa ogni traccia da quando il 14 dicembre scorso aveva lasciato la sua abitazione. In casa però c'erano la borsetta, i telefoni e il portafogli. Il marito, Sebastiano Visintin, poche ore prima del ritrovamento, aveva rivelato che Liliana, dopo essere stata vista dalla fruttivendola del quartiere camminare triste lungo la via, sarebbe stata inquadrata dalle telecamere di un autobus. Difficile però che sia salita senza nemmeno i soldi del biglietto. Si sta per chiudere il cerchio, aveva detto ai giornalisti. Sempre Visintin ha anche raccontato di aver ricevuto nella notte una strana telefonata, una chiamata anonima e silenziosa di cui ha informato la polizia. Polizia che in giornata aveva sentito nuovamente sia lui che Claudio Sterpin, l'82enne amico della donna. Subito dopo con i carabinieri e la guardia di finanza i poliziotti hanno iniziato quindi a setacciare il parco San Giovanni anche grazie pari ad una segnalazione giunta in giornata e dopo qualche ora il corpo è stato individuato.